Nei giorni scorsi Monte Cicerale ha festeggiato i 102 anni di Francesco Vecchio, nato il 7 maggio del 1919. Importante traguardo per lui 102 anni, ha dichiarato il sindaco Gerardo Antelmo sul suo profilo Facebook. È perfettamente lucido, giovialmente simpatico e umanamente generoso. Viviamo un periodo nel quale non è possibile abbracciarlo. Tutta la cittadinanza di Cicerale lo abbraccia virtualmente e gli augura lunga e felice vita. Auguri ancora. In totale sono quattro i centenari che vivono a Cicerale e il più longevo è Francesco, memoria storica di Cicerale. Durante un'intervista trasmessa nel mese di marzo su Rai 2, quando il comune cilentano manteneva il primato di paese covid free, ha dichiarato sono sempre stato in campagna a lavorare. Adesso questo covid è una brutta cosa, è una malattia infettiva, ma a Cicerale stiamo bene. Qui non c'è stato niente. Nel 2021 Cicerale festeggerà i 102 anni anche della signora Giovannina Mollo, la quale fa parte di un calendario che ritrae i 14 longevi del Cilento e durante un'intervista su blog zin rosmarinonews.it ha affermato ringrazio il Signore di essere arrivata qui e ne sono contenta. Ho lavorato in campagna, alla terra a contrattore e buoi, prima di sposarmi e anche dopo. Il segreto della mia età è che ho sempre lavorato. Ancora adesso faccio tutto da sola a casa. Il lavoro fa bene, più lavori e più vivi. Ho sempre mangiato normale, tutto è bene. Ricordo che dopo cena arrivavano gli amici di mio padre e ci divertivamo perché si ballava e cantava, il vino non mancava mai. Il segreto della felicità è che non si può avere tutto. L'Elisir di lunga vita sembra essere il mangiar sano, la dieta mediterranea, il lavoro duro nei campi, la famiglia, la musica, i momenti di difficoltà affrontati e superati durante il periodo di guerra, la forza di apprezzare le piccole cose giorno dopo giorno ed essere sempre grati alla vita.